Una piccola rivoluzione molto attesa dagli utenti di Instagram. Ora è possibile zoomare su foto e video pubblicate sul popolare social network per la condivisione di immagini. Il nuovo aggiornamento dell'app è già disponibile per iOS e lo sarà per Android a partire dalle prossime settimane. Lo zoom è uno dei feature che da più tempo i membri della community chiedevano di aggiungere alla piattaforma Instagram ed ora è realtà. È elegante come un orologio classico e performante come il più nuovo degli smartwatch. Il Samsung Gear S3 è stato presentato all'IFA di Berlino, una delle più antiche fiere di tecnologia tedesche con un lancio in grande stile. Il nuovo smartwatch della casa sudcoreana si presenta in dimensioni più abbordabili rispetto ai precedenti, del tutto simile a un orologio da polso. Ha un GPS integrato e l'Always-On display a colori, è resistente all'acqua fino a 3 metri e il Corning Gorilla Glass consente all'S3 di avere un display più resistente ai graffi. Grande novità è la durata della batteria fino a quattro giorni. Il settore del food è quello storicamente più tradizionalista e talvolta restio a introdurre innovazioni tecnologiche che però anche in questo settore possono fare la differenza. Per questo start-up bootcamp Foodtech, il primo acceleratore globale e indipendente nel settore foodtech ha lanciato Fast Track World Tour per incontrare in giro per il mondo oltre 100 start-up leader nel foodtech globale.